Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono rallentamenti per il traffico intenso tra il bivio con la 11 e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Verso Bologna rallentamenti anche tra Valdarno e Incisa Reggello. In A11 per lavori chiuso l'allacciamento con la 12 a Pisa provenendo da entrambe le direzioni. In A12 per gli stessi cantieri chiuso l'allacciamento con la 11 in direzione Pisa e quello con la statale 1 Aurelia provenendo da entrambe le direzioni. Ancora in A12 personale sulla strada per lavori tra la barriera di Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Livorno. Sulla statale 1 Aurelia rallentamenti per un incidente avvenuto circa 800 metri prima dell'ingresso del Maroccone in direzione Roma. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!